accetta certo potete iniziare inizio io vado mai buonasera buonasera a tutti a compagni agli amici che ci seguono e relatori io vorrei innanzitutto ringraziare franco russo e il suo osservatorio sull'unione europea perché ci dà la possibilità di approfondire temi che difficilmente potremmo capire se non avessimo delle persone come voi che ce li rendono accessibili l'incontro di oggi toccherà i temi della sovranità e democrazia che è un tema sempre molto dibattuto e anche messo molto a critica rispetto alla dimensione europea e poi la nuova governance il primo sarà presentato da Andrea Mato il secondo la nuova governance europea da Ernesto Screpanti e infine il semestre europeo da Paola Boffo e dopo questi ringraziamenti voglio solo dire che l'osservatorio avrebbe voluto affrontare oggi un altro tema cioè quello del futuro dell'Europa voi sapete che l'anno scorso si è messo in moto un processo eh dal maggio scorso eh che ha riguardato le istituzioni ma anche una partecipazione di associazioni a livello europeo per discutere eh di quali riforme di quali cambiamenti sarebbero necessarie ed auspicabili questo processo è arrivato diciamo ad un certo punto eh c'è una posizione del del una proposta della commissione una posizione del parlamento però nel frattempo è venuta avanti la la da parte della commissione la proposta il documento sulla proposta della nuova governance voi vi ricordate che il patto di stabilità è stato sospeso che vi è stato appunto la decisione eh di accedere al al di accendere un piccolo debito dal bilancio comunitario per poter realizzare delle politiche che è stato diciamo un fatto eh nuovo salutato insomma con con qualche ehm interesse da tutti noi perché la prima volta che questo è successo tuttavia oggi siamo di fronte appunto al al un documento della commissione che va un po' capito e interpretato ehm e anche il giudizio che voi darete è molto importante per noi eh nel senso che eh questo documento è solo come dire una camuffatura del ritorno all'austerità e la crisi che si presenta oggi di fronte a noi quanto è determinata dalla conseguenza della guerra quanto dai cambiamenti che il capitalismo globale sta operando quanto dalle decisioni degli stati a cominciare dagli Stati Uniti da America eh su tutto questo uno sguardo critico ed informato come il vostro per noi è importantissimo quindi io mi taccio e do la parola al primo nostro relatore che è Andrea Amato che tratterà il tema della sovranità e democrazia prego grazie io per diciamo affrontare tutte le questioni che anche Pasqualina adesso ricordava mi intero semplicemente a un approfondimento degli aspetti relativi alla eh sovranità e alla democrazia nell'Unione Europea proprio perché questi sono in qualche modo legati all'attualità eh della nuova governance di cui poi eh Ernesto Screpanti e Paola Boffo eh parleranno siccome siamo un osservatorio che guarda la realtà comincerei da uno sguardo velocissimo alla realtà politico istituzionale che eh da un lato la guerra e eh tutto quello che eh ne consegue in questo momento ha prodotto nel sistema istituzionale e nelle politiche che si muovono a livello europeo lo farò semplicemente con dei titoli delle parole chiave perché non è questo eh diciamo l'argomento che che vorrei approfondire però partiamo da qui a me sembra che oggi eh noi possiamo intravedere alcune eh alcuni modi di essere alcune diciamo posture come come di moda a dire adesso eh della eh dell'Unione Europea dei suoi stati membri dei governi eh delle sue istituzioni eh che eh convivono anche se non sono coerenti una con l'altra le nomino semplicemente perché penso che poi nel eh dibattito nella discussione possano essere in qualche modo riprese sono cinque io vedo uno un ritorno egemonico della Germania a livello eh diciamo del politica economica del quadro economico due una disarticolazione diciamo dei nazionale nazionale dei diversi stati membri ognuno va per conto proprio tre una situazione di blocco di paralisi che si manifesta per esempio sulle questioni dell'energia delle migrazioni quattro un ritorno all'euroscetticismo qua e là e cinque una unanimità sulla questione della guerra che sarebbe interessante di cui sarebbe interessante analizzare eh come dire le ragioni non è un quadro positivo anzi io penso che da questo quadro non può venire niente di buono per i lavoratori e le classi subalterne europee mi sembra di poter dire che la loro condizione è destinata a peggiorare e anche perché i loro destini dipendono in gran parte dalle decisioni che vengono o non vengono prese in Europa dico in gran parte perché ci sono dato che succede dicevo da un lato la capacità appunto da parte dei cittadini delle delle classi subalterne come abbiamo detto di promuovere conflitti che abbiano un respiro europeo dall'altro quella di darsi eh una di organizzazioni politiche di dimensione europea che non siano semplici network di partiti nazionali come come vediamo oggi ma se queste sono condizioni oggettive c'è anche una condizione e sono condizioni soggettive perdono c'è una condizione oggettiva e cioè l'esistenza di un quadro istituzionale che permetta alla volontà dei cittadini europei di essere correttamente rappresentata da chi prende le decisioni nell'unione europea dove per correttamente deve intendersi democraticamente cioè si pone più che mai oggi la grande questione della democrazia nell'unione europea tenendo presente che questa questione non può essere risolta senza le precondizioni soggettive di cui a cui facevo riferimento prima ma questo è vero anche viceversa cioè le lotte per l'avanzamento delle condizioni materiali e di vita come sappiamo bene non possono essere disgiunte da quelle per la democrazia questo sempre dovunque ma oggi più che mai in europa il deficit democratico dell'unione europea questa è diciamo tradizionalmente la questione più evidente che tutti conoscono e non da ora io ricordo che quando ho cominciato a occuparmi di europa verso la fine degli anni sessanta passato un po di tempo sentivo già parlare di deficit europeo di deficit democratico pensate un po e fino da allora esso veniva identificato con l'assenza di poteri da parte del parlamento europeo ora tutti ricordiamo che il parlamento di quei tempi era diciamo negli anni sessanta l'assemblea parlamentare europea istituita dai trattati di roma sul modello dell'assemblea comune della cieca alla quale nel 1962 era stato cambiato nome ed era diventato parlamento era composto da membri nominati dai governi tra nominati tra i parlamentari di ciascun paese membro nel 1979 ci fu la grande svolta il parlamento eletto a suffragio universale ma diciamo al legge universale acquista una serie di competenze soprattutto quelle riguardanti il bilancio e controlli di bilancio ma ha su tutto il resto un ruolo sostanzialmente consultivo negli anni successivi i diversi trattati dall'atto unico del 1985 al trattato di Lisbona 2007-2009 entra in vigore le competenze del Parlamento europeo sono via via aumentate oggi il Parlamento europeo ha oltre al potere di bilancio il potere legislativo in codecisione con il Consiglio su un discreto numero di materie non ha invece eh non ha invece solo un eh ruolo consultivo ma è invece un ruolo solo consultivo o orientativo su importanti materie come per esempio la politica estera la difesa la politica eh alcuni aspetti della politica economica l'occupazione inoltre non ha diritto di iniziativa legislativa che è un diritto riservato solo alla commissione ma i limiti del Parlamento europeo non risiedono solo nel non avere tutti i poteri che normalmente ha una camera bassa ma nella sua debolezza politica in particolare nella sostanziale eh subalternità al Consiglio la dimostrazione di questa subalternità appare chiara in occasione del cosiddetto trilogo ecco che cos'è il trilogo allora voi sapete che nella eh procedura ordinaria quella che conferisce il potere legislativo al Parlamento quando anche dopo la seconda lettura il Consiglio non è d'accordo sugli emendamenti del Parlamento si dovrebbe avviare una procedura formale di concertazione in un comitato di conciliazione in cui sono rappresentati eh il Consiglio il Parlamento e con la presenza della commissione invece di facilitatore non perché il Consiglio accetta gli emendamenti del Parlamento fin dalla prima lettura o viceversa perché il Parlamento europeo rinuncia a fare emendamenti che non trovino la scontata approvazione da parte del Consiglio ma semplicemente perché si ricorre alla concertazione interistituzionale di tipo informale attraverso il cosiddetto trilogo cioè il dialogo a tre è un neologismo ormai in voga nelle organizzazioni internazionali il dialogo a tre tra Parlamento Consiglio e Commissione sempre in veste di facilitatore il trilogo era già stato sperimentato nella cosiddetta procedura di cooperazione che esisteva prima di Lisbona subito dopo viene adottato dal Consiglio anche per la codecisione naturalmente i trattati non fanno alcuna menzione del trilogo ora la prima caratteristica negativa del trilogo è la sua opacità l'assenza di trasparenza all'esterno non traspira nulla del negoziato fino alla conclusione con il compromesso raggiunto è impressionante il ruolo decisivo importante che viene attribuito a una procedura informale ma sappiamo bene che l'informalità è una delle modalità precipue della governance ma non c'è solo la questione della trasparenza e dell'informalità c'è soprattutto una questione di equilibrio istituzionale infatti il più delle volte nel negoziato del trilogo è la posizione del Consiglio a prevalere anche a quel punto il testo del compromesso viene presentato nell'aula del Parlamento per una cosiddetta seconda lettura che è quasi una farsa certo c'è la possibilità di presentare emendamenti al testo del compromesso ma questi non passano mai ma non passano mai e le motivazioni sono ovvie perché questa subalternità al Consiglio? ma spesso c'è il ricatto del blocco del provvedimento e i parlamentari non se ne vogliono assumere la responsabilità soprattutto quando il provvedimento è atteso dai propri elettori è stato il caso della riforma della politica agraria comune l'anno scorso molti deputati in quel caso non condividevano i risultati del compromesso ma hanno finito per votarlo ma non c'è solo il ricatto c'è una oggettiva disproporzione di peso politico tra Parlamento e Consiglio e poi prevale la voce del padrone cioè quella dei governi sui deputati soprattutto sui deputati appartenenti ai partiti che sono nei governi nazionali e questo è il frutto della permanente nazionalizzazione della presenza politica nel Parlamento europeo che ha origini nelle modalità prettamente nazionali delle elezioni europee e nell'assenza di veri partiti europei che si manifesta nel fatto che a parte che sulle grandi questioni valoriali e non sempre i gruppi politici spesso si dividono in base alle nazionalità il risultato di tutto questo è anche la perdita progressiva di credibilità politica del Parlamento europeo presso i cittadini europei creando il paradosso che mentre sono aumentati i poteri all'Unione europea e i poteri non solo all'Unione europea ma al Parlamento europeo manca un organo di decisione politica eletto a suffragio universale che rappresenti in modo egualitario la volontà del popolo e mentre sono aumentati i poteri del Parlamento europeo sono via via diminuiti i cittadini europei che partecipano alle elezioni europee elezioni che comprendono esse stesse un deficit democratico e cioè la scarsa proporzionalità la simmetria della rappresentazione popolare del Parlamento europeo un deputato tedesco rappresenta 854.000 cittadini tedeschi un deputato maltese ne rappresenta 67.000 una simmetria rilevata anche dalla Corte Suprema tedesca che in una sentenza di cui parleremo più avanti appunto parla di questo allora i limiti della democrazia europea legati al ruolo del Parlamento europeo sono connaturati a un quadro più generale di carenza democratica dell'intero sistema istituzionale dell'Unione europea il cui aspetto più vistoso quello che da anni in molti denunciamo e cioè l'assetto intergovernativo non c'è dubbio che dopo molti anni di convivenza e di relativo equilibrio tra il metodo comunitario e il metodo intergovernativo dopo Maastricht il metodo intergovernativo ha preso il sopravvento il simbolo più appariscente dell'intergovernativismo brutta parola ma non ce ne sono altre è il Consiglio europeo all'inizio si trattava di riunioni informali e senza cadenze prestabilito riunioni dei capi di Stato e di governo la prima fu nel 1961 nel 1974 si decise di chiamare queste riunioni Consigli europei e fu data loro una frequenza regolare il Consiglio europeo entra nei trattati nel 1985 con l'atto unico e nel trattato di Maastricht diventa organo dell'Unione europea e con quello di Lisbona diventa a pieno titolo una delle istituzioni dell'Unione europea allora concepito all'inizio come momento di orientamento generale della politica europea le riunioni del Consiglio europeo sono ormai diventate lo strumento con cui i capi di governo entrano con i piedi nel piatto nelle decisioni dell'Unione andando spesso al di là di una corretta interpretazione del ruolo assegnatogli dai trattati per non parlare poi della confusione istituzionale creata con l'invenzione del suo presidente permanente che duplica la presidenza semestrali le presidenze semestrali del Consiglio europeo in questo c'è tutta una pubblicistica sull'attuale presidente Michel insomma tra il patetico e l'arrogante ma comunque al di fuori del ruolo istituzionale che i trattati gli dovrebbero assegnare ci sono però altri gangli del sistema intergovernativo di cui non si parla molto ma che sono molto importanti negli anni precedenti Maastricht furono inseriti nel sistema istituzionale due elementi di governance che nel tempo hanno dispiegato tutta la loro potenza di diciamo agenti importanti dell'intergovernativismo e sono il core per e la comitologia il core per è la sigla che sta per comitato dei rappresentanti permanenti cioè gli ambasciatori a capo delle rappresentanze dei governi presso l'Unione Europea il core per esiste fin dai trattati di Roma con il compito di preparare le riunioni del Consiglio negli anni il suo ruolo è diventato sempre più importante fino a diventare la vera sede del negoziato tra i governi le rappresentanze si sono riempite di diplomatici e di funzionari ministeriali distaccati che coprono tutte le materie di cui si occupa l'Unione Europea il core per coordina ben 150 comitati e gruppi di lavoro composti da funzionari dei vari stati membri è inutile rilevare che le rappresentanze non intervengono solo nel processo decisionale a valle delle proposte della Commissione ma esercitano il loro soft power anche nei confronti della stessa Commissione nella fase di elaborazione delle proposte legislative il risultato è che la Commissione difficilmente si avventura in proposte di cui non si conosca preventivamente il grado di accoglienza che esse possono avere insieme al Consiglio la comitologia tradotta in italiano malamente comitatologia è la modalità attraverso cui i governi esercitano il loro controllo nei confronti della Commissione soprattutto nelle misure esecutive facendo e questo facendolo in modo ufficiale perché la comitologia nasce da una decisione del Consiglio del 1987 e oggi è normata dal regolamento UE del 2011 si tratta di circa 300 comitati composti da funzionari statali ma anche da stakeholders pubblici e privati che in teoria dovrebbero servire alla Commissione per una consultazione preventiva alla elaborazione delle proposte legislative ma molto più delle misure esecutive che mette in atto la Commissione in realtà sono i cavalli di Troia dei governi e delle lobby per influenzare l'attività della Commissione la comitologia come modalità di superamento dell'autorità del pubblico conforme decentrate e reticolari di cooperazione tra attori pubblici e privati rappresenta il versante tecnocratico della governance multilivello allora io mi fermerei qui anche se ovviamente non posso che indicare i titoli delle questioni che in qualche modo sono conseguenti di tutto quello a cui ho accennato e questi titoli in qualche modo sono da una parte la governance che ha un suo diciamo massimo momento di potenza nella governance economica la governance come in qualche modo strumento strumento di un di una globalizzazione di un capitalismo mondiale e per quello che ci riguarda di un ordo liberalismo che ha in qualche modo determinato le sorti dell'Unione Europea di questi ultimi anni certo rimane tutta la questione della della sovranità del no demos cioè della negazione di un popolo europeo che sia in qualche modo fonte di legittimazione della sovranità europea e da questo diciamo derivano poi i filoni che ha assunto la critica alla mancanza di democrazia nell'Unione Europea il nazionalismo il sovranismo oggi si parla di post sovranisti e poi c'è come dire la risposta diciamo in positivo quella a parte quella a cui faceva riferimento Pasqualina e cioè le proposte sul futuro della Unione Europea della conferenza della conferenza sul futuro dell'Europa però poi ci sono le proposte del Movimento Europeo del Movimento Federalista e della Sinistra della Sinistra della Sinistra Europea ecco diciamo che questi argomenti che ho semplicemente menzionato per titoli potrebbero essere da un lato l'oggetto diciamo della discussione che segue adesso ma forse anche ripresi in occasione di seminari successivi grazie bene grazie Andrea adesso la parola a Ernesto Screpanti che appunto affronterà il tema della nuova governance grazie Ernesto grazie cercherò di essere più breve possibile vediamo se riesco a stare entro 15-20 minuti prendi il tuo tempo prendi il tuo tempo perché la materia è no ma è tutto perché abbiamo un limite di tempo e poi è vero dovrebbe lasciare un po' di spazio per il dibattito perché altrimenti se facciamo tre relazioni di un'ora ciascuna buonanotte va bene cercando di essere più breve possibile dirò che la comunicazione della commissione europea che illustrerò interviene in una fase di un processo di riforma del quadro fiscale europeo che è iniziato nel 2021 e dovrebbe concludersi nel 24 quando secondo questa proposta della commissione quando gli stati dovranno leggerare per approvare le proposte di riforma della commissione forse voi ricorderete che noi intervenimmo sulla la riforma del quadro fiscale già all'inizio di quest'anno io stesso feci una relazione in cui passavo in rassegna alcuni interventi teorici perché allora sembrava che le cose stessero cambiando in modo positivo c'era stata il recovery fund c'era stata l'emissione di euro bond seppure di natura limitata provvisoria c'era stato il trattato Italia-Francia che prometteva chissà quali straceli di politica economica e c'erano stati interventi di alcuni economisti interessanti che impostavano la riforma in termini chinesiani per cui all'epoca nella mia relazione io mostrai un certo ottimismo sulla possibilità di riforma mentre ricordo che Piammetta assumisse un atteggiamento più pessimista e ora devo dire come senso di poi che aveva ragione lei alla fine la montagna ha partorito il topolino questa proposta della commissione è molto al di sotto delle aspettative un po' di tutti gli osservatori tra l'altro è stata chiesta è stata chiesta il parere di vari soggetti sia economisti sia soggetti istituzionali alcuni di questi pari sono stati dati gli erano interessanti ma la maggior parte sono stati ignorati comunque per entrare nel nel merito della proposta di riforma direi che ci sono comunque alcune cose positive innanzitutto vengono aboliti i parametri non osservabili per per il controllo della politica fiscale in particolar modo il cosiddetto reddito potenziale che era un parametro particolarmente perverso che è applicato ad alcuni paesi come l'Italia faceva sì che i governi dovevano fare politiche fiscali restrittive quando l'economia era in recessione questo perché il reddito potenziale è una funzione positiva del reddito reale quindi ha un effetto procipito cioè aggrava la ciclicità del sistema questo parametro è stato abolito e la cosa è positiva inoltre è stato abolito l'obbligo di raggiungere il 60% nel rapporto debito in 20 anni che era una cosa che è veramente ridicola fu criticata da tutti e non fu applicata da nessuno in particolar modo dall'Italia che era una cosa irrealistica assurda se ne stavano resi conto e l'hanno abolita non c'è più quest'obbligo altra cosa positiva come diciamo strumento fiscale di controllo non viene più usato il deficit pubblico ma la spesa pubblica perché questa cosa è positiva perché se si usa il deficit pubblico si hanno degli effetti perversi procifici ad esempio se l'economia entra in recessione si riducono le entrate fiscali e il deficit pubblico aumenta quindi se va di sopra del 3% il governo deve prendere provvedimenti restrittivi che aggrano la recessione una delle varie assurdità del vecchio sistema di controllo adesso non si usa più questo indicatore ma si usa la spesa pubblica netta che poi vediamo come viene definita si usa la spesa pubblica l'effetto prociclio non c'è più perché quando l'economia entra in recessione si riducono le spese fiscali scusate si riducono le entrate fiscali quello che conta è l'andamento della spesa non del deficit e quindi non è detto che il governo sia costretto a prendere problemi restrittivi peraltro il piano deve essere di medio termine sostanzialmente elaborato sull'atto di quattro anni ci sono degli aspetti negativi ovviamente secondo me il più importante è che non viene allargata adeguatamente la capacità fiscale della commissione una cosa che tutti quanti avevano chiesto cioè che la commissione avesse un grosso bilancio pubblico che permettesse di fare una politica fiscale federale questo non non è stato recepito e non è stato fatto e di conseguenza non si parla neanche di eurobond perché ovviamente se c'è gli eurobond hanno senso se c'è un deficit pubblico federale ma se il deficit pubblico federale non esiste ed è molto piccolo di eurobond si può anche evitare di parlare ora ci sono quelli del recovery fund ma sappiamo che sono una cosa limitata nel tempo un difetto ancora più grave è che viene aumentato l'accentramento autoritario della politica fiscale nel modo che vedremo con un potenziamento dell'enforcement e dei poteri della commissione l'ultimo grosso rifetto è che non viene aumentato il potere di controllo del Parlamento il Parlamento è come se non esistessi non viene neanche menzionato in questa commissione in questa relazione allora adesso vi illustro brevemente quali sono le modalità di politica fiscale e quali sono le forme di sorveglianza e di sanzionamento delle politiche fiscali dunque tutto il processo comincia viene avviato dalla commissione che elabora un reference multiannual adjustment part un sentiero di aggiustamento pluriannale di riferimenti su un arco quadriannale per ognuno dei vari paesi questa è un'innovazione nel senso che fino ad ora l'iniziativa delle politiche fiscali partiva dai vari paesi che poi ovviamente discutevano con la commissione concordando con una cosa che piacesse anche la commissione si è andata avanti così adesso l'iniziativa parte dalla commissione questa secondo me è la cosa più importante cioè in pratica la commissione non ha allargato il proprio bilancio per poter fare una propria politica fiscale federale però aumentare i propri poteri nel senso che fa le politiche fiscali dei vari stati proprio li decide la commissione dopodiché come seconda fase gli stati membri propongono i loro i loro piani quadriennali le politiche di bilancio le fanno su un arco di tempo di 4 anni e le concordano poi con la commissione nei piani diciamo nei bilanci annuali perché sono il piano e quadriennale il bilancio annuale ogni anno viene rinnovato comunque in questi bilanci annuali si deve seguire la traiettoria fiscale stabilita dalla commissione in modo in modo che il rapporto debito il comincia a convergere entro il medio termine cioè entro 4 anni mostri una tendenza alla diminuzione e resti decrescente per 10 anni inoltre il rapporto deficit bill deve essere portato al di sotto del 3% entro i 4 anni e restare al di sotto del 3% per 10 anni questi sono diciamo gli obblighi a cui devono sottostare i bilanci pubblici dei vari paesi che sono comunque previsti dal piano quadriennale di riferimento elaborato dalla commissione gli stati membri possono chiedere un periodo di aggiustamento più lungo cioè invece di 4 anni 5 6 anche 7 anni però lo devono giustificare con la necessità di fare riforme o investimenti e comunque deve essere approvato dalla commissione quindi una volta che i vari stati hanno elaborato i loro piani quadriennali la commissione li approva se li approva e in secondo luogo li approva il consiglio il consiglio europeo alla fine questi piani di spesa e di investimento vengono applicati dai vari stati sotto il controllo della commissione del consiglio la cosa interessante è questa che se non c'è l'approvazione della commissione dei piani nazionali i piani nazionali non valgono cioè vale il piano elaborato dalla commissione e i controlli vengono effettuati sulla base dei piani di spesa della commissione questo è un enorme accentramento di poteri nelle mani della commissione ed è tanto meno democratico in quanto non c'è nessun controllo né del parlamento europeo ma neanche dei parlamenti nazionali perché a quel punto se il parlamento nazionale prova un certo piano che non viene approvato dalla commissione vale il piano della commissione altra innovazione che viene introdotta dovrebbero essere istituite creati delle istituzioni fiscali indipendenti in ogni nazione ogni paese avrà un'agenzia fiscale indipendente dal governo dal governo del paese considerato che ha il triplice compito di monitorare le politiche fiscali di valutare l'applicazione del piano in relazione alle previsioni diciamo alle aspettative della commissione e rafforzare l'imposizione quando è necessaria l'imposizione e ora vediamo le proposte di riforma del sistema di sorveglianza e delle sanzioni il riferimento è al semestre europeo si adottano due procedure che erano previste dal semestre europeo una procedura per deficit eccessivo e una procedura per squilibrio macroeconomico eccessivo vi ricordo che secondo il semestre europeo la procedura per deficit eccessivo prevede una sanzione dello 0,2% del PIL che può essere portata fino allo 0,5% del PIL mentre la procedura per squilibrio economico eccessivo prevede una sanzione dello 0,1% del PIL ebbene questo sistema resta in piedi ma le sanzioni possono essere aumentate questa comunicazione non dice di quanto però dice che possono essere rafforzate cosa sono gli squilibri macroeconomici eccessivi sono situazioni di squilibrio macroeconomico per esempio una situazione di stacplazione o di inflazione elevata o di basso sviluppo o di alta disoccupazione oppure di disavanzo delle partite correnti oppure bolle immobiliari che coinvolgono l'intera economia quando si verifica uno di questi problemi c'è uno sfidio macroeconomico e allora la commissione può imporre al paese considerato di fare delle riforme eventualmente degli investimenti e cambiare il piano quadriennale e come strumenti di imposizione ha la procedura per deficit eccessivo che adesso però viene raddoppiata c'erano due tipi di procedure per deficit eccessivo una è riferita al deficit cioè se ci si accorge che il rapporto deficit è superiore al 3% per un po' di anni scatta la procedura per deficit eccessivo un'altra invece è riferita al debito cioè se ci si accorge che il rapporto debito e PIL ha una tendenza a crescere per qualche anno scatta una procedura di deficit eccessivo riferita al debito e in più c'è una procedura per squilibrio macroeconomico eccessivo inoltre sono previste sanzioni cosiddette reputazionali cioè si può chiedere al governo del paese sanzionato o a ministri delle finanze che sono sottoposti a procedure di deficit eccessivo o di squilibrio macroeconomico eccessivo di rendere conto al Parlamento europeo delle ragioni per cui ci sono questi squilibri e dei provvedimenti che che prendono che gli stati possono prendere per far fonte a questi squilibri ovviamente il Parlamento europeo non ha potere decisionale in questo caso non è che possa abbocciare o approvare queste cose qua appunto come dicono è una sanzione di tipo reputazionale cioè i ministri vengono sputtanati un'umiliazione un'umiliazione post-onestere sospesi con un'altra forma di sanzione i finanziamenti comunitari e in particolar modo il finanziamento del recovery fund e noi sappiamo che per un peso come l'Italia è importante quindi degli strumenti di sanzione molto più forti di quelli che aveva con il vecchio semestre europeo ultima ciliegina e poi chiudo noi abbiamo sempre detto che in Europa ci sono paesi di serie A di serie B e di serie C era una cosa informale si diceva ma pensavamo che la cosa non avesse importanza adesso la cosa viene sancita ci saranno paesi ad alto medio e basso rischio dove il rischio è misurato dalla distanza del rapporto debito-pil rispetto al 60% ai paesi ad alto rischio si applicano tutti questi controlli e queste sanzioni ai paesi a medio rischio si dà un po' più di margine di manovra per modificare le proposte e i paesi a basso rischio non si fa niente sono liberi di fare quello che vogliono la commissione non dice niente su quello che può accadere a un paese a basso rischio quindi vediamo che con questo tipo di riforma le cose per un paese come l'Italia si metteranno molto male diciamo che saremo permanentemente commissariati nel senso che siamo sotto il controllo della commissione e addirittura arriveremo ad una situazione in cui la politica fiscale del governo italiano ma questo discorso popolare per la Grecia e per la Francia viene fatta dalla commissione e imposta al governo con sanzioni con sanzioni che possono essere più forte celebre bene grazie brutta notizia ci hai dato si commentano un po' da solo allora adesso l'ultima comunicazione di Paola boffo sul semestro europeo altre brutte notizie grazie osqualina grazie a tutti dunque io mi ero ripromessa di dare diciamo un complemento alla relazione di Andrea e alla comunicazione di Ernesto contestualizzando un po' queste discussioni rispetto a quello che poi effettivamente sta accadendo in questi mesi in queste settimane e con riferimento ai documenti insomma che sono emanati anche proprio in questi giorni e in effetti riparto proprio dal semestre europeo che aveva già citato Ernesto il semestre europeo come sappiamo si chiama semestre perché ha cadenza semestrale nel senso che inizia appunto in autunno con la pubblicazione dell'analisi annuale della crescita che adesso si chiama analisi annuale della crescita sostenibile perché contiene anche a riferimento agli obiettivi globali di sostenibilità delle Nazioni Unite quindi la commissione presenta l'analisi annuale della crescita la relazione sul meccanismo di allerta a cui faceva riferimento Ernesto la proposta di relazione comune sull'occupazione le conseguenti proposte e raccomandazioni per i paesi della zona euro e i pareri della commissione sul progetto dei piani di bilancio degli stati membri della zona euro io vorrei soffermarmi non parlerò del meccanismo di allerta ne ha già parlato Ernesto né dei progetti di bilancio dei piani di bilancio degli stati i quali sono attualmente come sappiamo all'esame della commissione peraltro sul sito della commissione si vede che il progetto di bilancio dell'Italia per esempio è in via di aggiornamento i documenti sono stati presentati il pacchetto d'autunno sostanzialmente appunto così si chiama del semestre europeo è stato presentato il 22 novembre scorso e voglio richiamare alcuni dei passaggi che mi sembrano più rilevanti della appunto comunicazione della commissione l'analisi annuale delinea quindi le principali caratteristiche anche mettendo in evidenza i cambiamenti rispetto a quello dei cicli precedenti perché in questo caso ovviamente sappiamo tutti che ci sono stati degli eventi anche molto importanti che ci colpiscono tutti e principalmente la questione della crisi energetica conseguente alla guerra in sintesi e quindi tiene conto l'analisi della crescita anche delle priorità del programma che si chiama Repower EU che è questo nuovo programma proposto dalla commissione che serve per accelerare in qualche modo la transizione verde la transizione energetica e a cercare di riparare i danni che si sono verificati sul piano delle politiche energetiche e soprattutto dei costi delle politiche energetiche l'analisi parte dal rilievo che la ripresa successiva all'epidemia della pandemia del covid è stata più rapida del boom del dopoguerra poiché c'è stata un'espansione del pil reale del 5,4% nel 2021 ricordiamoci sempre che stiamo parlando dell'Unione Europea cioè tutti questi dati si riferiscono all'Unione Europea nel suo complesso e ovviamente vanno invece poi articolati sui casi dei diversi paesi la commissione ci dice che l'inflazione però sta erodendo il potere d'appisto delle famiglie poiché ha di molto superato la crescita dei salari e ha quindi un impatto negativo sui consumi e dice testualmente che gli aumenti dei costi le interruzioni della catena di approvvigionamento e le condizioni di finanziamento più rigide stanno pesando sui investimenti e cioè che le politiche sostanzialmente monetarie di stretta sui tassi di interesse di fatto hanno delle conseguenze negative sui investimenti e quindi sulla potenziale diciamo di crescita di ripresa dell'economia nel 2024 si prevede che il debito pubblico il rapporto debito pubblico PIL nell'Unione Europea nel suo complesso che era aumentato notevolmente si dovrebbe invece stabilizzare nel 2024 appunto sull'84% del PIL vabbè rapidamente non so se si ecco vi volevo far vedere questo grafico in cui si rappresentano i debiti dei diversi stati membri questo è il debito del 2020 il primo la prima colonna si riferisce alla Grecia la seconda si riferisce all'Italia e quindi l'Italia sta a 160% credo stava nel 2020 in questo grafico c'è anche la composizione del debito dal punto di vista diciamo di chi lo detiene e quindi vediamo che il debito italiano è un buon diciamo percentuale detenuto da dalle banche della banca nazionale banche degli istituti finanziari anzi nazionali e dai residenti la commissione ci dice poi che per conseguire gli obiettivi dell'Unione Europea è l'essenziale conseguire gli obiettivi principali gli obiettivi posti dal pilastro europeo dei diritti sociali perché questi obiettivi poi vediamo meglio nel dettaglio posti in materia di occupazione competenze e riduzione della povertà mette in evidenza poi questa comunicazione che la risposta che viene data alla politica della crisi energetica chiaramente richiede una combinazione di sforzi sia a livello nazionale che a livello di Unione Europea e questi sforzi possono essere supportati sia dal bilancio europeo che da Next Generation EU sappiamo che Next Generation EU ha un importo complessivo che raggiunge circa 800 miliardi di euro e quindi in qualche modo è quasi pari all'entità del bilancio europeo per il ciclo 2021-2027 anzi come sappiamo è anche più accelerato perché Next Generation deve essere completato nel 2026 e oltre al supporto dal punto di vista finanziario ovviamente il programma sostanzialmente come sappiamo la maggior parte di Next Generation EU è costituito dal dispositivo per la ripresa e la resilienza rifinanzia i piani nazionali di ripresa e resilienza che sono finalizzati a finanziare investimenti prevalentemente investimenti pubblici e un ambizioso programma di riforme finora nell'ambito di questo dispositivo sono stati erogati 137 miliardi di euro quindi sostanzialmente a sostegno dell'economia e contemporaneamente i programmi per la politica di coesione dopo dalla pandemia hanno erogato oltre 160 miliardi di euro per promuovere la convergenza sociale e regionale quindi è importante sottolineare il fatto che il dispositivo per la ripresa e la resilienza è strettamente integrato al semestre europeo ormai diciamo che nel semestre europeo si valutano i progressi fatti nell'ambito dei piani nazionali di ripresa e resilienza e quindi c'è un supporto dal punto di vista finanziario che va poi monitorato e controllato nell'ambito del semestre europeo gli stati dicevamo prima che contribuiscono allo sforzo basato sulla bilancia europea e sul dispositivo per la ripresa e la resilienza cosiddetto recovery fund per confrontarsi appunto per concettarsi sulle riforme e sugli investimenti per migliorare la situazione degli investimenti sulle energie per la diffusione delle energie rinnovabili altre tecnologie pulite e per le infrastrutture del settore energetico e questo soprattutto attraverso il programma Repower EU come succede questa cosa con l'integrazione all'interno dei piani nazionali di ripresa e resilienza di nuovi capitoli cioè un nuovo capitolo per ciascuno stato membro finanziato delle risorse di Repower EU e finalizzato a rafforzare le politiche in campo energetico di resilienza delle infrastrutture energetiche e per il cambiamento verso le fonti rinnovabili diciamo molto in sintesi ora questo significa che quello che anche l'attuale governo sta sostenendo sulla volontà di modificare il piano nazionale di ripresa e resilienza è in realtà già scritto diciamo nelle carte poiché bisogna comunque fare questa operazione introducendo un nuovo capitolo si sta già facendo nel piano nazionale che poi sarà approvato dalla commissione in realtà sarà scritto insieme alla commissione sostanzialmente quindi si evidenza appunto che esistono queste forme di supporto tra tutto dal punto di vista finanziario finanziario e nel documento si si parla delle politiche attualmente vigenti un altro elemento da tenere in considerazione è quello che si chiama social climate fund cioè un nuovo fondo che la commissione ha proposto nell'ambito del pacchetto fit for 55 e cioè diciamo della del green deal europeo che serve che serve a finanziare a supportare gli stati nel finanziare i costi della transizione energetica sostanzialmente saranno stanziati e il regolamento attualmente si trova nella fase di trilogo di cui ha parlato all'inizio Andrea per un importo di 59 miliardi per finanziare l'efficientamento energetico il rinnovamento degli edifici il trasporti a bassa emissione e sostanzialmente supportare le famiglie soprattutto le famiglie più a basso reddito quelle che si trovano più esposte dall'aumento dei costi oltre che dalla trasformazione dell'industria sostanzialmente quando si passa dal carbonifero diciamo all'industria verde che ovviamente necessita di ristrutturazioni ambientali aziendali e ristrutturazioni proprio di settori di interi settori produttivi il tasso di occupazione allora dicevamo che in questo in questa tornata del pacchetto d'autunno la commissione propone anche una fa una proposta per di relazione comune sull'occupazione come sappiamo abbiamo detto prima che la commissione ha potere d'iniziativa e quindi fa proposte che devono essere poi approvate dal Parlamento e dal Consiglio e quindi tutto questo quello di cui stiamo parlando adesso sarà poi approvato nel Consiglio che si terrà il 15 dicembre prossimo sostanzialmente poiché il Consiglio poi assumerà diciamo le proposte della commissione però sostanzialmente i contenuti poi delle proposte sono questi che stiamo vedendo ora allora dal punto di vista dell'occupazione la commissione ci dice che nel 2021 il tasso di occupazione ha raggiunto il record del 74,8% nel secondo trimestre del 2022 che tuttavia il tasso dei giovani cosiddetti NET cioè non in occupazione non in formazione è comunque permane elevato all'11,7% nel secondo trimestre del 2022 su questo attrago la vostra attenzione sul fatto che stiamo parlando di un dato medio europeo e quindi possiamo immaginarci cioè adesso non ho sotto mano i dati però quali sono i dati effettivi per l'Italia quali sono i dati effettivi per l'Italia del sud e per le regioni più arretrate del sud non ho appunto sotto mano questo dato ma siamo sicuramente intorno al 30% per lo meno il rischio di povertà è rimasto più o meno invariato rispetto al periodo della pandemia ma il che significa che comunque una persona su cinque è a rischio di povertà e allora cosa succede? Succede che la ripresa del mercato del lavoro solo da un lato e la stabilità di questi indicatori sociali riflettono l'impatto positivo delle misure che sono state adottate e d'altra parte appunto questo il supporto che è stato dato comprende da un lato il sossegno dell'Unione Europea da un lato l'effetto stabilizzante dei sistemi di welfare anche soprattutto nazionali e dicono le riforme strutturali che sono state attuate nell'ultimo decennio tuttavia la stessa commissione fa notare che si prevede che gli effetti sull'occupazione differiscono significativamente per settore per genere e per regione poi sollevano obiezioni sul fatto che oltre il 70% delle misure di sostegno comunque sono state misure orizzontali cioè non sono state mirate su specifici settori magari a cui erano direttamente per i quali erano più necessari e quindi avverte che è sempre più importante che queste misure invece siano mirate alle famiglie vulnerabili e che si mantengono gli incentivi per ridurre il consumo delle energie da un lato e per promuovere quindi l'efficienza energetica dall'altra bisogna riorientare le misure di supporto anche perché cito le misure rivolte ai gruppi svantaggiati ottengono risultati migliori in termini di stabilizzazione macroeconomica sappiamo che il cosiddetto cioè insomma la propensione al consumo delle fasce più deboli della popolazione e si avvicina al 100% diciamo perché ovviamente i redditi sono prevalentemente impiegati nel consumo a differenza che in altre classi più alte dove invece c'è un acuto di risparmio più importante aggiungo che a proposito di propensione al consumo come sappiamo propensione al consumo uguale a 1 cioè 100% è proprio della pubblica amministrazione ovviamente perché spende poi investe tutto quello che entra e direi che la propensione al consumo pari a 1 è anche quella dei percettori del reddito di cittadinanza poiché percepiscono un assegno che possono solamente spendere e non possono assolutamente risparmiare la crescita dei salari cioè in realtà qua si tratta di crescita di quota dei salari perché dice che è stata trainata principalmente dall'aumento delle ore lavorate rispetto al periodo chiaramente covid e però è rimasta al di sotto dell'inflazione e quindi una contrattazione collettiva efficace è fondamentale e quindi è fondamentale l'aggiornamento dei salari minimi nella comunicazione relativa all'occupazione che consiglio di leggere qui non ho chiaramente nel tempo nel modo di approfondire troppo si si raccontano si richiamano gli obiettivi dell'Unione Europea per il 2030 in materia di occupazione competenza e riduzione della povertà e c'è la tabellina che si trova nella in questa comunicazione dove si vede che l'obiettivo al 2030 per l'occupazione è pari al 78% a livello Unione Europea l'obiettivo di percentuale di adulti con un'occupazione con una educazione terziaria quindi alla laurea diciamo deve essere pari al 60% e che si prevede ci si pone l'obiettivo di ridurre la povertà di 15 milioni di individui in Italia ci si è posti rispetto a questi obiettivi un tasso di occupazione del 73% un tasso allo stesso modo dell'educazione terziaria di 60% e una riduzione delle persone in povertà di 3 milioni 200 mila persone andiamo avanti un po' più velocemente nel 2022 l'orientamento del bilancio è stato espansivo come abbiamo visto poiché gli stati membri hanno adottato delle azioni rapide ma non sufficientemente mirate probabilmente diciamo tra le due cose c'è un trade off per attenuare l'impatto delle crisi queste misure sono state misurate nell'1,2% del PIL dell'Unione Europea però appunto il 70% di esse come per esempio aliquote riva ridotte o accise o modifiche prelievi e sussidi sui prodotti energetici non sono state concentrate sulle famiglie più vulnerabili e sulle piccole imprese più esposte quindi si ribadisce che è importante che queste misure si concentrino sulle famiglie vulnerabili il semestre europeo abbiamo detto parte in autunno in questi giorni con il pacchetto d'autunno che è un'analisi a livello di Unione Europea e invece nel nella fase del pacchetto nel pacchetto di primavera insomma quindi aprile-maggio la commissione pubblicherà delle relazioni per paese quindi farà un'analisi paese per paese e proporrà delle raccomandazioni specifiche per paese altra cosa importante è che appunto il semestre europeo che si propone che si propone di inquadrare e di monitorare il coordinamento delle politiche dell'Unione sia dal punto di vista dell'economia sia dal punto di vista dell'occupazione sarà monitorato appunto insieme insieme al piano finanziato da Next Generation EU sostanzialmente per verificare come i paesi effettivamente hanno attuato il piano come i paesi effettivamente hanno realizzato gli investimenti che si sono proposti e hanno attuato le riforme che sono previste dai piani infine vorrei dovrei leggere in realtà le cinque raccomandazioni che il che la commissione propone cioè che la commissione raccomanda al consiglio di adottare e che riguardano la prima il coordinamento delle politiche fiscali fra gli stati membri per sostenere il tempestivo ritorno dell'inflazione è l'obiettivo a medio termine del 2% della BCE sarà diciamo una cosa abbastanza ardua da perseguire ehm cordando un approccio comune ehm supportando le misure tariffarie su base ampia vabbè salto un po' perché sennò prendo troppo tempo ehm e definire strategie fiscali di medio termine opportunamente differenziate per aumentare il potenziale di crescita in modo sostenibile la seconda raccomandazione riguarda eh la necessità di sostenere un livello elevato di investimenti pubblici che sono necessari per rafforzare la resilienza economica e sociale e per sostenere la transizione verde digitale ehm la commissione e conseguentemente il consiglio eh raccomanda di attuare i programmi della politica di coesione e i piani per la ripresa e la resilienza garantendo la tempestiva attuazione delle riforme degli investimenti e garantendo che gli aggiornamenti dei piani siano mirati e non riducano l'ambizione complessiva infine cioè non infine ma la terza raccomandazione riguarda la parte eh più eh nel mercato del lavoro e la parte sociale conformemente alle prassi nazionali nel rispetto del ruolo delle parti sociali sostenere l'evoluzione salariale che eh attenui la perdita del potere d'acquisto dei salariati particolare per i lavoratori a basso reddito riflettendo nel contempo l'evoluzione della produttività a medio termine e limitando gli impatti secondari sull'inflazione inoltre sviluppare e adattare ove necessario i sistemi di sostegno sociale per aiutare le famiglie vulnerabili ed affrontare lo shock energetico e le transizioni verde digitale affrontando l'aumento del rischio di povertà migliorare ulteriormente le politiche attive del mercato del lavoro e adottare misure per affrontare le carenze di competenze garantire l'effettivo coinvolgimento delle parti sociali quarta raccomandazione riguarda il sostegno alle imprese eh soprattutto le piccole e medie che sia conveniente temporaneo e mirato ad imprese solide quindi il sostegno fornito dovrebbe mantenere gli incentivi per l'efficienza energetica e preservare le parità di condizioni e l'integrità del mercato unico anche attraverso il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato contribuendo al progresso verso l'unione dei mercati dei capitali infine la quinta raccomandazione eh e riguarda eh la necessità di preservare la stabilità macrofinanziaria mantenere i canali di credito all'economia e continuare a sostenere l'integrazione finanziaria monitorare i rischi legati in particolare alle tensioni nel settore energetico l'aumento dei tassi di interesse alle attività deteriorate e all'evoluzione dei mercati immobiliari continuare ad impegnarsi attivamente nei lavori preparatori per l'introduzione di un euro digitale ehm questi queste cinque raccomandazioni sono eh dovrebbero essere prese a riferimento degli stati per attuare le politiche eh in campo in campo economico ma anche in campo di per quanto riguarda il mercato del lavoro e eh e l'intervento nel sociale eh in realtà eh di solito questi aspetti non sono contenuti eh nelle raccomandazioni generali del consiglio eh del semestre europeo eh ma piuttosto appunto nella eh comunicazione sull'occupazione più specificamente dove c'è anche una serie di eh di raccomandazioni molto più puntuali eh quindi diciamo che è abbastanza importante questo eh questo aspetto eh che in qualche modo già in questa fase diciamo rispetto al progetto di bilancio insomma di legge finanziaria che attualmente è in discussione in Italia eh rileva diciamo delle delle contraddizioni diciamo in questo senso ehm io mi fermerei qui eh anche se diciamo avevo rilevato un altro paio di cose che erano mh abbastanza interessanti sia sul finanziamento di Next Generation in particolare sulla composizione della dell'indebitamento della commissione eh per finanziare Next Generation New eh perché mercoledì scorso ventitore di novembre il Parlamento ha eh tra l'altro eh fatto una insomma ha approvato eh la sua posizione eh sulla decisione sulle risorse proprie che riguarda la modalità di finanziamento della ehm del bilancio europeo ehm dove si infoturranno nuove fonti di reddito ehm e poi mi è capitato di leggere un parere della Corte dei Conti relativo a una proposta sempre della commissione di modifica del regolamento finanziario dell'Unione europea ehm dove si vuole introdurre una norma che è finalizzata al eh finanziamento dei prestiti fatti all'Ucraina eh diciotto mili miliardi sì diciotto miliardi di euro ehm sulla quale sulla quale proposta la Corte dei Conti solleva delle obiezioni abbastanza consistenti non tanto per la destinazione diciamo dei fondi ma perché ehm si vogliono eh finanziare mediante una operazione sul bilancio eh che rischia di mettere in discussione di avere delle ricadute sui bilanci successivi nel caso in cui questi prestiti non fossero rimborsati nei tempi previsti e di tutto ciò forse se riesco a farlo questo questo queste note insomma posso eh proporrò a transforma di pubblicarle nel prossimo numero in modo che ci siano ci sono anche tutti i riferimenti a ai documenti di cui abbiamo rapidamente parlato grazie grazie Paola benissimo può essere molto utile questo aggiornamento bene a questo punto c'è qualcuno che chiede di intervenire di parlare di chiedere ulteriori approfondimenti dei nostri relatori Roberto Roberto chi? Musacchio no no io ho una cosa metodologica siccome le relazioni sono molto corpose eh sì e noi abbiamo anche un tempo di ascolto c'è qualcuno che ci sta seguendo qualcuno che li ascolterà forse si può provare a fare la cosa che aveva detto anche Andrea cioè avere un altro momento di appuntamento di dibattito non lo so diciamo è un prolecomeno in questo momento di per decidere altrimenti io posso dire anche delle cose però siamo stati un'ora e quaranta quindi poi diventa materiale molto più difficilmente utilizzabile mentre i tre testi sono compiuti sono ottimi chiedo anche agli altri per orientarsi quindi cosa proponi tu di mettere di darli per conosciuti i testi o di pubblicarli? intanto noi pubblichiamo questo video quindi di riaggiornarci entro pochi giorni per fare una discussione su questo se riteniamo avendolo magari inviato anche ad altra gente che in questo momento non c'è però questa ipotesi vorrei chiedere a Franco Russo in particolare che è quello che più segue lo servatorio se gli pare opportuno perché sono tre cose corpose assolutamente intanto vorrei ringraziare Pasqualina appunto lo servizio di Franco Russo mi farebbe piacere ma non è così perché noi abbiamo costituito una piccola comunità epistemica che veramente funziona eh certo ma se tu te la guardi insieme io volevo dire questo io sono insomma d'accordo sarei anch'io per avere un momento di dibattito più più ampio non so ecco nella nostra esperienza pluripruidecennale se poi effettivamente il dibattito ci riprende dopo insomma un'interruzione però mi rimetto insomma alla decisione collettiva cioè io pure penso che discutere tre relazioni così corpose sia richieda del tempo d'altra parte Roberto Musacchio ci ricorda sempre che i tempi d'ascolto sono giustamente insomma sono molto limitati quindi non lo so se riusciamo a trovare una giornata magari qualcuno ha qualcosa da dire anche brevemente rispetto alle domande che faceva in origine in apertura Andrea per esempio ha posto per i quattro punti abbiamo Vincenzo Naso che chiede di parlare Vincenzo io farei una proposta farei una proposta di mediazione che sarebbe quella che se qualcuno ha qualcosa da dire subito o faccia altrimenti ci diamo un appuntamento ma diciamo dato la serietà con cui abbiamo preso questa iniziativa non temo che la prossima volta ci saremo almeno tutti noi se è possibile quindi non avrei timore di un rinvio sine die personalmente ho soprattutto ascoltato e penso che sia opportuno approfondire quindi vorrei rileggere o risentire quello che ho già ascoltato non ho domande precise nel senso che ne avrei duecento quindi è uguale a zero e invece insisto sul fatto che se c'è qualcuno che ha già un intervento da fare lo faccia altrimenti qui siamo entro dieci giorni di rivederci c'è qualcuno che ha qualche domanda impellente da porre ai relatori io vorrei credere ad Ernesto a che punto è la procedura su questa sulla nuova governance la procedura istituzionale quali sono i tempi si prevede che entro il 2024 dovrebbe essere approvato è tradotto in legislazione questa cosa quindi ancora c'è c'è spazio per dibattito e probabilmente verrà coinvolto forse spero anche nel Parlamento europeo e i parlamonti nazionali però la stessa commissione dice che alcune delle proposte possono essere attuate già da subito già dal 2023 quindi è un po' ambigua la cosa e attraverso quali strumenti potrebbero essere attuate nel semestre europeo abbiamo già lo strumento del semestre europeo di cui ha parlato Paola inserendoli può essere attivato sì e peraltro la comunicazione è già in discussione proprio oggi nell'ambito dell'aerogruppo c'è un primo incontro una prima discussione su questa proposta Paola ma tu non hai sentore che quali e se alcune di queste proposte saranno anticipate no no va bene grazie altri ah sì c'è Alessandro Alessandro prego no io solo diciamo volevo solo esprimere la mia come dire mi è venuta un po' d'ansia ascoltare queste relazioni nel senso che l'impressione che ho avuto è che tutte e tre le relazioni delinino diciamo come dire un rafforzamento piuttosto incisivo piuttosto forte eh di que del potere delle tecnostrutture quindi in sostanza diciamo ci si muove eh velocemente verso la dimensione della post democrazia o di una democrazia governamentale diciamo no e su questo mi domando anche ecco poi magari su questo mi piacerebbe sentire che cosa ne penso nei relatori rispetto agli effetti che tutto questo ha sì d'accordo sul sistema europeo ma poi sui sui sistemi politici parlamentari di partecipazione democratica eh nei nei singoli paesi io cito adesso velocemente perché mi ero preso un appunto un articolo di qualche settimana fa 18 settembre sul Corriere della Sera di Sabino Cassese intitolato l'equilibrio tra parentesi perduto dei poteri eh qui eh sostanzialmente ancora prima di queste riforme lui delinea una situazione italiana dove praticamente il Parlamento non è più legislatore ma è sostanzialmente lui dice il Parlamento legislatore è stato pressoché assente facendo un'analisi 2018-2022 solo un quinto della legislazione è stata di iniziativa parlamentare la metà degli atti con forza di legge è stata costituita da decreti legge cioè da provvedimenti governativi inoltre i governi hanno posto la questione di fiducia sui decreti legge centosette volte dunque il governo è diventato legislatore e strossa sempre più la discussione parlamentare nel corso della conversione in legge dei decreti legge lo vediamo anche adesso con la manovra finanziaria con il ricorso alla questione di fiducia secondo Cassese il risultato è un sistema del tutto disfunzionale in cui il governo leggifera invece di indirizzare il Parlamento e quindi questo è poi una logica della gestione europea da un punto di vista intergovernativo il Parlamento è ridotto ad essere un legislatore interstiziale lui dice l'amministrazione è sempre più vincolata da troppe norme i guardiani i custodi dello Stato come la ragioneria generale il Consiglio di Stato cioè le tecnostrutture italiane e le altre strutture tecnico-amministrative degli apparati burocratici delle altre burocrazie non solo continuano a dire le loro messe in latino perché ovviamente vanno avanti per la loro strada ma sono distolti dalla loro autentica funzione e la collettività paga un costo complessivo altissimo in termini di conoscibilità delle norme di vincoli da essere disposti di costi insomma questo voglio dire cioè mi sembra che adesso il caso italiano è sempre molto particolare rispetto agli altri però già questo adesso io Cassese non lo voglio deificare però certamente una persona intelligente un analista puntuale su alcune questioni ci delinea che già la situazione attuale è una situazione in Italia che voglio dire lascia molto a desiderare ecco se ci mettiamo sopra questo carico di tecnostrutture che gestiscono a livello europeo penso che possiamo anche chiudere il Parlamento ecco bene altri io volevo dire qualcosa prego Ernesto a conferma del di ciò che ha appena detto Alessandro cioè la mia impressione è che ci sia veramente un'accelerata della dell'accentramento di poteri tecnocratici e burocratici della della commissione l'ho già accennato nella mia relazione ma ve lo ripeto perché è una cosa di fondamentale importanza il piano di riforma prevede che se questo cosiddetto reference multiannual adjustment part non è approvato dai singoli stati la vigilanza delle sanzioni vengono attuate sulla base di questo reference plan cioè in altri termini lo chiamano scusate è un piano di spesa pluriannale che esautora completamente non soltanto il Parlamento europeo che comunque ma anche i parlamenti nazionali noi sappiamo che la legge finanziaria deve essere approvata dal Parlamento in Italia e così in altri paesi e il Parlamento deve essere approvare una legge finanziaria che non è coerente con quel multianno elaborato dalla commissione la commissione lavora sul suo piano e impattisce sanzioni e sorveglianza sulla base del suo piano quindi di fatto il Parlamento nazionale è esautorato o legifera secondo quanto ha stabilito la commissione oppure si aprino le esorzioni della commissione questa è una cosa gravissima pazzesco cioè un commissionamento io però ho alzato nuovamente la mano perché ribadisco questa esigenza perché va bene no no lo dico brevissimamente abbiamo fatto quasi due ore è complicato veramente ora vorrei evitare di invitarci a dire un commentino che posso fare anch'io nel senso che io penso che in questo momento l'Unione Europea sia una forma di democrazia che volge verso la democratura e che quindi ha caratteristiche inedite sullo scenario che fanno interrogare sulle prospettive future complessivamente però qui siamo su un banale diciamo che siamo sul commentino credo che la struttura e la complessità di cui ringrazio delle tre relazioni chiedono invece di interrogarsi anche più nel merito anche i dati che dava alla fine Paola insomma sono dati che derivano che vanno innanzitutto analizzati nel merito cioè che cos'è questa 74% di occupazione eccetera eccetera ieri è uscito fuori un dato dell'Iro l'altro ieri che dice che sono diminuiti quest'anno 9% dei salari alla mondo e sono dati anche dal fatto di un intervento permanente e costante della BCE di cui in questo momento non si ha certezza per il futuro che viene quindi credo che abbiamo bisogno di un'argomentazione un po' più ragionata un po' più c'è un'interfaccia con questo documento questo testo sulle previsioni strategiche che è stato approvato recentissimamente che colluca l'Unione Europea dentro il quadro neoatlantico quindi in qualche modo fa diciamo da macro decisione rispetto a tutti gli altri aspetti compresi quelli energetici come chiarissimamente e poi ci dobbiamo misurare con un dato che fino alla pandemia non c'era ma noi viaggiamo al 10% di inflazione questi dati vanno misurati e qual è l'impatto del 10% di inflazione io l'impatto sull'occupazione ce l'ho chiaro perché l'ho letto sui dati del sindacato rispetto alla pandemia e quello con l'inflazione è tutto da vedere che va in qualche modo ricalcolato sento bisogno di una discussione un po' più approfondita per questo ripetisco la cosa di prima insomma che altrimenti siamo alle piccole chiose che va per esempio lunedì prossimo 12 siete tutti occupati oppure potremmo sempre alle 5 fare due ore di discussione cioè un'ora e mezza di discussione e mezz'ora poi le conclusioni ovviamente per me va bene il 12 e va bene anche il 19 io considererei molto importante far circolare questo materiale nelle sue tre relazioni che possiamo mandare in giro anche spezzettate una per per una le pubblichiamo lo mandiamo ai nostri interessari e riconvochiamo a base anche di un ascolto o per il 12 o per il a me vanno bene ambe due che dite voi non vedo Andrea a che fine va bene per me va bene Paola come è relatrice non sono certa di poterci essere ma ne ha tantomeno il 19 quindi meglio il 12 no oppure il 13 non è che no alcune di 12 va benissimo dai facciamo il 12 allora le 5 e Giancarlo ci riprocura il link sì il materiale è già disponibile ulteriormente mercoledì sarà disponibile si può diffondere e sempre Pasqualina ci presiede la riunione va bene ma non mi grazie ma lo può fare anche Roberto no 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 va benissimo Pasqualina va bene faccio i prentieri dimmi ciao Francesco riaggiornando quello che abbiamo detto in modo che chi può inserirsi grazie ciao ciao buona serata a lunedì grazie scusate il 12 alle 5 12 alle 5 facciamo come ora ciao ok grazie ciao 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 eh avevo detto di due minuti di silenzio finali eh porca io ti ho seguito non è stata l'unica come sempre un abbraccio ciao ciao buona serata ciao